Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. A due settimane dalla presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio Comunale di Tortoreto è caos alleanze. Il sindaco sciente Domenico Piccioni dice no all'ingresso in coalizione del consigliere di opposizione in quota Lega Nico Carusi, nonostante l'alleanza siglata con il Carroccio Forza Italia e Fratelli d'Italia. Le troppe frizioni in passato e le ultime stilettate verso il vice sindaco Francesco Marconi stanno favorendo un atteggiamento rifidente verso Carusi che è vice coordinatore provinciale della Lega. Il centrodestra se le posizioni resteranno distanti rischia di spaccarsi. A Tortoreto nell'area azzurra il quadro è più complicato che altrove. Già perché non va dimenticato Tortoreto esprime un parlamentare della Repubblica Antonio Zennaro della Lega con Salvini e non può permettersi l'onorevole per prassi, accordo e protocollo che il centrodestra vada spaccato alle elezioni? Il patto di alleanza sancito mesi fa proprio in vista dell'appuntamento amministrativo con Zennaro ed il centrodestra tutto a sostegno di Piccioni non può essere rimangiato e se questo dovesse accadere, ossia lo stop all'accordo con la lista civica di Piccioni, il centrodestra potrebbe correre da solo con Carusi in lista se non addirittura candidato sindaco. E che fine farebbero Massimo Figliola e Giorgio Ripani, esponenti tesserati di Fratelli d'Italia, in consiglio? Continuerebbero a restare con Piccioni o, tenendo fede alle indicazioni di partito eventualmente ciò accadesse, a passare nella lista di Carusi? Le cose non vanno meglio nel listone antipiccioni finito a Brandelli. Dopo l'abbandono di azione, di impegno civico dell'ex sindaco generoso Monti, del tavolo tecnico che avrebbe dovuto dare vita a più Tortoreto, resta in piedi la potenziale lista dell'altro alleato Domenico Di Matteo. La sua obiettivo Tortoreto, oggi all'opposizione, è nella condizione di scendere in campo con un candidato sindaco, però ancora da definire, ma che potrebbe coincidere con la figura dello stesso Di Matteo, che potrebbe imbarcare anche il pentastellato Riccardo Straccialini.